vai 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 ragazzi ci siamo dati il cambio perché questo è osvaldo questo è grande dopo un anno siamo in tre abbiamo cambiato la canna tre volte qua questo è grande questo è osvaldo finalmente arrivato dopo un anno che ti cerco se non è osvaldo sarà italo vedo le testate siamo fuori ancora 4 6 metri adesso c'è da lavorare adesso c'è da lavorare in tre ci siamo passati la canna in tre a dopo vieni caro non è osvaldo ma è chiuscino vieni caro vieni ma hai avuto così tanta sette di acqua vieni bimbo ed è che hai fatto fuori tutto il moncino la ristorante vieni 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 hai finto i sassi lì sotto vedi che c'ho la canna alta a posto facciamo fare uno spoglietto le unge vieni vieni ci siamo quasi vieni zero il tiro è sempre più grande all'amato perfetto